3, 2, 1 Welcome, welcome and Bienvenido Spam, pam Ciao a tutti quanti ragazzi Ciao a tutti quanti Allora, allora, allora Sono tornato nella mia stanzetta Oddio, ho i miei capelli che vanno a casa Vabbè, sono tornato nella mia stanzetta E quando sono in questa stanza Io impazzisco, non so perché Ma faccio video tutti molto energici Non voglio legare i capelli ragazzi perché veramente fa caldissimo Per registrare il video ho aperto le finestre Perché prima c'erano le persone chiuse Quindi ho aperto per registrare il video Per avere più luce ovviamente perché se no al buio non mi vedo E però adesso devo legarmi assolutamente i capelli Perché fa caldissimo Un secondo e sono da voi, yes Come vi avevo detto, eccomi qua De nuovo ragazzi, oggi ho le lente a contatto Non ho gli occhialini, occhialini su quale da piccina Però poi niente, ho una maglietta Con scritto affronta la vita con il sorriso Me l'avevano data Quando avevo fatto i camerieri in una serata Di beneficenza Bene, detto questo adesso possiamo proseguire Come potete vedere qui sotto c'è il titolo Ovviamente che recita Chiudo il canale Sì, è vero Chiudo il canale Perché comunque mi sono accorto Che non riesco a stare dietro a tutto Perché comunque io Come ben sapete Perché per i nuovi iscritti magari Non lo sanno ancora Però io faccio università Studio lingue per le relazioni internazionali E questo è un periodo di esami Infatti solo a giugno ne ho sei o sette Qualcosa del genere Quindi preparare esami universitari È bello tosto Dopodiché ne ho già fatti due E comunque Oltre all'università Ok Ho anche studio Anche canto lirico Per chi non lo sapesse ancora Questo è il mio quarto anno di canto lirico Quindi vi posso garantire Che stare dietro a tutto Sembra semplice Ma non è semplice Perché comunque nel frattempo Devo andare a fare delle serate di beneficenza Eccetera 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 Quindi stare dietro a tutto È un pochino impossibile Quindi appunto Mi dispiace Ma mi vedo costretto A chiudere il canale Perché comunque Come avrete notato Nel mio canale Ci sono video Fatti comunque con Ehm Come si dice Come si dice Aiutatemi voi Dall'altra parte Della videocamera Fate video con Proprio con Vabbè Avete Compassion Compassione Insomma Quindi Onde evitare di fare le cose di fretta Stavano via luce Non so perché Onde evitare di fare le cose di fretta Magari male Preferisco chiudere il canale E almeno stare un pochino più tranquillo E riuscire a concentrarmi sulle altre cose Però 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 È vero comunque Io sono Sono felice Per questa chiusura Perché comunque Ve lo svelo qua Insieme Tutti insieme Vi svelo Che comunque Questa chiusura È solo Una chiusura Momentanea Quindi Ragazzi State tranquilli Che a luglio Ritornerò La chiusura del mio canale Sarà solo per il mese di Giugno Anzi Voi avrete Alcuni di voi Alcuni di voi Hanno anche gli esami Quindi Almeno non ci distraggono Con i miei video E almeno Questo mese di giugno Ci concentriamo tutti sugli esami E a luglio Torneremo più forti di prima E più carichi di prima Bene Detto questo Comunque È un video molto breve Perché comunque Non è che ci sia molto da dire Ho deciso di fare Un video apposta Perché comunque Non è carino Che io sparesse così E vi ricordo Però delle piccole Conge Allora Mi raccomando Seguitemi su Tutti i miei social Che trovate sempre Qui sotto Che sono Twitter Che mi trovate Che mi trovate con il nome Tiago Cos'era quella cosa Che mi trovate Che mi trovate Con il nome Tiago T-H-I-A-G-O Mi raccomando L'H ragazzi Perché alcuni di voi Sbagliano a scrivere il mio nome Il mio nome è con L'H-T-H-I-A-G-O Dopo di che c'è anche Snapchat Che mi trovate con Tiago Tiago Sempre lo trovate qui sotto Poi c'è Instagram Che mi trovate con Pitch Tiago Che lo trovate sempre qui sotto La pagina Facebook Sto usando un pochino meno Però comunque I tre social principali Che utilizzo Sono Instagram Twitter E Snapchat Wuhuu Pam pam Detto questo Comunque ragazzi Non vi preoccupate Io sarò più attivo Sui social Non riuscirò a montare Dei video Per questo mese di giugno Però seguitemi Assolutamente su tutti i miei social Così almeno Potete vedere un po' di cose Che faccio E quello che succede Nella mia giornata Quindi non dimenticatevi Di iscrivervi Oltre ad iscrivervi Al canale Che comunque È una chiusura momentanea Vi ricordo Solo per il mese di giugno Oltre a Io so Continuando a guardare sopra Che guardo me stesso Perché Vabbè Oltre a Segurimi sui miei social Appunto Così potrete vedere Come si svolge Un po' la mia giornata Le cose che faccio Perché posterò un po' di più Andate a vedere Tutti gli altri video Che ci sono indietro Quelli indietro 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 Dalle canzoni Dalle challenge Dal video Per esempio I am gay La mia storia Dal Qualsiasi cosa Mi raccomando In questo mese Quindi andatevi a vedere Se riuscite gli altri video Tutti gli altri video E non dimenticate Ma come sto parlando E quanto sto parlando E non dimenticatevi Di dire magari I vostri amici Familiari Zii Parenti Nonni Bisnonna Trisavola Quello che volete Di andare A vedere I miei video Mi raccomando Alla Trisavola Dovete dirle Di iscriversi Al mio canale E quindi Seguitemi sui social Riccomando ragazzi Iscrivetevi anche qui Sul mio canale Che ho visto Che stiamo crescendo Tantissimo Quindi iscrivetevi L'acqua O per su Up and down Bla 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 E niente Quindi non vi preoccupatevi Che comunque Ritornerò A rompervi le palle Quindi Questo era un video Flash Lampo Anche se non è un video Flash Lampo Però fa niente Comunque Su questo canale Mi mancherete Un pochino Arrivano tutti gli insetti Vabbè E ciao a tutti ragazzi Vi mando un grande bacio E facciamo la chiusura Da assistant Di volo Sign Signori Signori Passaggieri Vi ringrazio Per aver scelto Ancora una volta Tiago rompipalle Airlines Vi ricordiamo Che la compagnia Aerea prenderà Un mese di pausa Quindi nel mese Di luglio Sarà possibile Riacquistare I biglietti Per questo canale Quindi ancora una volta A nome della nostra Aerolinea Vi ringraziamo Per aver scelto Appunto La nostra Aerolinea Quindi grazie E arrivederci E ci vedremo A luglio Più carichi di prima Vi voglio bene Grazie per il supporto Mi date Grazie mille davvero Mua 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 Al saghi Grazie a tutti Lungdio